Buon sabato, apriamo il nostro Tg Sud con la notizia del giorno, oltre i confini e il titolo che abbiamo dato a questa notizia parliamo della cooperativa Badia Grande che ha festeggiato oggi i suoi 15 anni di attività con un incontro che si è tenuto all'istituto Biagio Amico di Trapani, la testimonianza dell'onorevole Pietro Bartolo per 30 anni medico a Lampedusa. Ascoltiamo. L'intervento più atteso era quello dell'onorevole Pietro Bartolo, europarlamentare dal 1992 al 2019, medico a Lampedusa e quindi, gioco forza, il responsabile delle prime visite ai migranti che sbarcavano sull'isola. Un medico che ha visto di tutto, il medico che detiene il triste record di ispezioni cadaveriche, ma anche il medico che ha salvato decine di vite umane, una addirittura strappandolo da un sacco per cadaveri. Stiamo parlando di persone, persone che purtroppo hanno avuto la sfortuna di non poter restare nel proprio paese perché sono state costrette ad andare via per le guerre, per le persecuzioni, per la famiglia, per i cambiamenti climatici. Tutti i fatti che devo dire sono stati determinati dal mondo occidentale perché siamo stati noi, siamo noi che siamo responsabili delle guerre, siamo responsabili dei cambiamenti climatici che costringono queste persone poi a lasciare il proprio paese. E di conseguenza noi dovremmo avere anche la responsabilità di accogliere queste persone. L'Europa io credo che deve rispondere con una voce sola, dando la possibilità a tutti quelli che bussano alle nostre porte di essere accolti, di dargli la possibilità di sopravvivere, di dargli la possibilità di vivere una vita serena. Perché sa, cosa dico io, siamo tutti esseri umani, tutti abbiamo il diritto di vivere una vita dignitosa, siamo tutti cittadini di questo mondo. I 15 anni di attività della cooperativa Baria Grande non sono un punto di arrivo, ma una ripartenza nel nome della solidarietà, oggi ancora più urgente, determinata dalla crisi dei rifugiati ucraini. La gestione prioritaria dei nostri servizi è stata rivolta all'accoglienza e all'integrazione dei migranti, ma non solo. Abbiamo diramato su più livelli del sociale i nostri servizi, quindi ci siamo dedicati ai disabili, alla vulnerabilità, ai minori autottoni del nostro territorio, con diversi servizi anche nelle scuole. Abbiamo fatto tanto sul nostro territorio e ringraziamo i comuni che collaborano con noi quotidianamente e che accolgono i nostri progetti, ma c'è ancora tanto da fare. Questa era la nostra notizia del giorno, tutte le altre notizie tra poco, nella prima edizione. Agevolazioni e semplificazioni per le aziende, le ZES, le zone economiche speciali, sono state al centro di un incontro tenuto a Travani, ieri alla presenza dell'assessore regionale alle attività produttive, l'onorevole Mimmo Turano. Strategia per una Sicilia aperta, presentato il rapporto finale denominato Act Tank Sicilia, che punta a portare l'isola nel mercato globale. San Vitolo Capo, il futuro nel porto, il piano regolatore del porto definirà l'apocazione turistica del Borgo Marinaro, il comune finanzierà il progetto di redazione. Questione di centimetri per la consigliera Garuccio, si riapre la polemica sugli attraversamenti pedonali di via Giamma Battista Fardella a Travani, lei li ha misurati. E poi infine lo sport, un'altra prova difficile, domani alle 12, la Palacanestro Travani affronterà Torino in trasferda. E infine l'approfondimento, siamo in quaresima, quindi vicini alla settimana santa, al venerdì dei misteri. Oggi Claudio Martese ci racconterà degli aneddoti con i fratelli Strazzera, Mimmo e Luca, con loro si racconterà il dietro le quinte del venerdì santo, quindi non potete perderlo. Ieri a Travani, in questo convegno, sono state presentate ufficialmente le zone economiche speciali, agevolazioni, semplificazioni per le aziende e non solo. Sono due in Sicilia le ZES, una nella Sicilia occidentale e una nella Sicilia orientale. Vediamo. In realtà il Ministro Carfagna, come sapete, ha già approntato dei finanziamenti sulle ZES, ritagliandole all'interno del PNRR. Proprio su Trapani il commissario della ZES è soggetto attuatore del collegamento ultimo miglio fra porto, retroporta, aurea industriale e quindi tutta l'infrastruttura aviare. Questi sono i primi passi che faremo, insieme poi a uno sviluppo che terrà conto ovviamente della vocazione del territorio e di quello che già il territorio esprime, sperando che possa essere poi un fattore di attrazione per altre imprese, magari anche che arrivano dall'estero. Da questo punto di vista sono fondamentali chiaramente i collegamenti internazionali. Già il Consigliere diplomatico del Ministro Carfagna si è messo a disposizione, però anche attraverso la regione siciliana, in particolare l'assessore Turano, abbiamo potuto incontrare l'ambasciatore di Israele che ieri è stato in visita, come sapete, in Sicilia e cominciano una serie di contatti importanti sperando che siano un'opportunità, ripeto, sia per le imprese già existenti sul territorio sia per quelle che vogliono investire. Ma questa è un'occasione molto importante per lo sviluppo del nostro territorio e in maniera particolare per il settore marmifero di Custonaci. Avere Custonaci di Israele del Marmo e la zona economica speciale è un evento eccezionale. Da anni il governo della regione non si occupava del settore marmifero, questa è un'occasione straordinaria. Devo dire che gli imprenditori del Marmo hanno due opportunità, le ZES e il settore del Marmo, per avere un grande sviluppo. Devo dirle, giorni fa mi ha chiamato un imprenditore del nord, sapendo che Custonaci era zona ZES e cercava delle aree per fare un'attività imprenditoriale. Io ringrazio l'assessore Torano perché il settore marmifero di Custonaci è tra i settori più importanti dal punto di vista economico della provincia d'Italia. Ha una grande capacità di esportazione del Marmo in tutto il mondo, compreso i paesi americani. Avere avuto la possibilità che le ZES e il distretto del Marmo, che è sicuramente, noi siamo il secondo bacino marmifero d'Italia, è sicuramente una cosa eccezionale. Le zone economiche speciali sono un'occasione importante per il nostro territorio. In provincia di Trapani sono stati individuati sette comuni con diverse particelle che spesso coincidono con le zone industriali già esistenti. È un'occasione unica per creare sviluppo perché abbiamo insieme, in combin, agevolazioni tipo fiscale e agevolazioni non fiscali. Mi riferisco alla semplificazione amministrativa, tempi ridotti per istruire le pratiche, per far arrivare l'autorizzazione alle imprese. Oggi è un problema con gente che hanno tutte le aziende, poteri sostitutivi rilasciati al commissario per realizzare le opere. Ci sono le condizioni ideali per far bene. Dobbiamo essere bravi, tutti gli attori interessati allo sviluppo, pubblica amministrazione, imprese, associazionismo, affare rete, affare sistema affinché questo possa accadere. Punti di forza e criticità, la consapevolezza della realtà economica siciliana per portare l'isola nel futuro del mercato globale. Questo è l'obiettivo dell'Act Tank Sicilia, una piattaforma di confronto permanente in collaborazione con la regione siciliana. Vediamo. Presentato a Palermo il rapporto finale Act Tank Sicilia, strategie politiche per una Sicilia aperta, attrattiva e connessa, i cui contenuti sono stati elaborati alla luce delle indicazioni raccolte da un ciclo di quattro tavoli di lavoro tematici tenutisi tra settembre 2021 e marzo 2022. Il forum ha rappresentato l'occasione per chiamare a raccolta gli esponenti del sistema pubblico e privato dell'isola sulle questioni più importanti da affrontare per costruire un futuro comune. La Sicilia è il secondo motore economico del mezzogiorno dietro alla Campania, con un contributo al prodotto interno lordo del sud pari al 22,5%. Malgrado le difficoltà economiche e strutturali, ci sono diversi punti di forza su cui puntare. La Sicilia si conferma una delle regioni più giovani del Paese, età media di 44,7 anni rispetto ai 45,9 nazionali e si assiste a un forte dinamismo dell'imprenditorialità under 30, il 6,5% dei titolari di imprese rispetto al 5,6% medio nazionale. E ancora una crescita del sistema delle start-up, più 138% tra 2015 e 2021, con caratteristiche di crescente inclusione e apertura all'innovazione. La Sicilia è quinta in Italia per valore aggiunto generato dall'agroalimentare, con numerose produzioni di eccellenza nel settore, a titolo di esempio, e la seconda regione per prodotti dopo IGP nel comparto del cibo. Tuttavia, questa posizione di rilievo è potenzialmente messa a repentaglio da un trend di sviluppo che è stato più lento rispetto alle altre regioni meridionali. La Sicilia è ultima nel mezzogiorno per tasso di crescita nel quinquennio 2015-2019, un valore pari alla metà di quello registrato dalla Puglia. Nel 2020 la Sicilia è stata tra le regioni che hanno registrato la minore contrazione della ricchezza generata a livello territoriale, meno 6,2 punti percentuali di valore aggiunto tra il 2019 e il 2020, terz'ultima in Italia. Ma resta al penultimo posto per prodotti interno lordo pro capite, con un valore 17.000 euro inferiore alla metà del primo in classifica. Nel mercato del lavoro, nel decennio 2010-2019, vi è stata una riduzione degli occupati pari all'1,6 punti percentuali. Unica regione in Italia con un valore negativo insieme alla Calabria. Sull'innovazione nelle imprese agricole in Sicilia, c'è questo rapporto di confagricoltura di reale mutua. Oggi parliamo di economia in questa prima parte. Vediamo il servizio. Nonostante la pandemia abbia colpito e messa a dura prova il settore economico, l'agricoltura siciliana stupisce. Anzi, conferma la sua brillante capacità innovativa e non smette di puntare al progresso. Dal 2020, anno in cui il Covid-19 ha fatto il suo ingresso, più di otto imprese siciliane su dieci hanno avviato diversi investimenti per rinnovare la loro attività. Di queste, il 75,3% sostiene come quest'ultimi debbano essere continuativi per crescere sul piano della sostenibilità e competitività. E' quanto emerge dal focus innovazione del secondo rapporto Agricoltura 100, promosso da reale mutua in collaborazione con confagricoltura per valorizzare il contributo del settore al rilancio sostenibile dell'Italia. Ma c'è di più. Il rapporto evidenzia come un'impresa su tre abbia raggiunto un livello di innovazione alto o medio-alto che sta proprio ad indicare un livello di sostenibilità volto ad innovare processi e produzioni. La sostenibilità, quindi, diventa quel valore aggiunto e spirito guida imprescindibile per un radioso futuro verso il rinnovamento del settore agricolo. Un quadro, certamente roseo, che si prospetta in funzione di un miglioramento dei sistemi di sostenibilità ambientale, ad esempio adottando sistemi avanzati di monitoraggio e mappatura delle coltivazioni tramite sensori, satelliti e droni. Qui oggi, molte aziende si stanno preparando ad introdurre per raggiungere un ruolo di primato nel territorio locale di appartenenza. Tra le iniziative maggiormente caratteristiche risulta più in bocca e richiesta la formazione dei lavoratori su temi quali l'impresa etica, la green economy e la gestione corretta delle risorse, oltre l'agricoltura sociale, un'area che le vede attive con attività come le fattorie didattiche. E chiudiamo questa sezione con la cronaca. Blitz dei carabinieri in un'azienda di Trapani sequestrati prodotti ittici. Il titolare è stato denunciato. I carabinieri del NAS di Palermo, con il supporto del personale del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASP di Trapani, a conclusione di una verifica igienico-sanitaria presso un'azienda conserviera di prodotti ittici, hanno sequestrato 143 kg di pesce in cattivo stato di conservazione. Sulla merce, inoltre, erano apposte etichette riportanti un marcoce inesistente ed era stata modificata la data di scadenza. Nel corso della verifica, i militari dell'arma hanno anche rivenuto 1125 kg di legumi e frutta secca privi della documentazione circa la provenienza. Riscontrato, inoltre, che il locale adibito al sezionamento e alla lavorazione dei prodotti ittici presentava carenze igienico-sanitarie. Il titolare dell'azienda è stato segnalato alla magistratura. E sempre a Trapani, i carabinieri di Misiliscemi hanno notificato ad un 36enne il diveto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla sua ex convivente. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal GIP del Tribunale del Capoluogo che ha condiviso le risultanze investigative raccolte dai militari dell'arma, ai quali la donna si è rivolta perché temeva per la propria incolumità. Dalle indagini è emerso uno scenario di violenze sia fisiche sia psicologiche che ormai si verificavano con cadenza quotidiana. Oltre ad essere colpito dal divieto di avvicinamento, l'uomo dovrà anche indossare il braccialetto elettronico. Abbiamo altro da raccontarvi tra poco nella prossima sezione del Tg Sud. Adesso parleremo di San Vitolo Capo e del futuro del porto della località turistica tra le più ambite in Sicilia e poi dei dossi su via Fardella. La consigliera comunale Anna Garuccio è andata a misurarli e non li trova regolari. Infine lo spazio allo sporto soprattutto con la prova difficile della Pallacanesso-Trapani. Andiamo a San Vitolo Capo dove nei giorni scorsi sono iniziati i lavori di escavazione dei fondali del porto e di ripascimento del litorale. Il futuro turistico della borgata marinara comunque è legato al nuovo piano regolatore generale. 25.000 metri cubi di sabbia prelevati dalla zona esterna del muro il sottoflutto a protezione del bacino portuale andranno a ricostituire l'arenile sabbioso dell'area allevante dove negli ultimi anni si è verificata una forte erosione. Questo è solo un primo passo di un più ampio obiettivo ridefinire le opere portuali e progettare il nuovo piano regolatore del porto di San Vitolo Capo. Attraverso questi due interventi ridisegnare il futuro turistico legato alla nautica di riporto nel borgo marinaro. La proposta di rimodulazione della configurazione delle opere forane è stata redatta dalla Società di Ingegneria Costiera Progetti e Opere di Palermo il cui direttore è l'ingegnere Elio Ciralli. Il progetto sulla nuova configurazione del porto ammonta circa 25 milioni di euro. Siamo stati chiamati per cercare di affrontare questa tematica che ormai è annosa e che come tutte le tematiche di erosione costiera ha una forte componente antropica cioè dipende dalle azioni che sono state fatte per lo sviluppo socio-economico dei territori. La configurazione del porto così come è configurato oggi è una causa importante dell'erosione costiera e in più provoca un grande problema cioè il mancato utilizzo del porto in sua piena potenzialità. Allora ci siamo posti il problema di vedere se esiste la possibilità di risolvere la questione in termini di lavorare come lavora la natura quindi configurando nuovamente il porto in una tale da lasciare alla spiaggia il suo naturale equilibrio e avere un porto che possa funzionare al 100%. Che tipo di intervento prevederà? Prevediamo un intervento di ritocco sulle opere forane del porto quindi noi cercheremo di intervenire sulla configurazione delle opere forane significano i moli del porto per dargli una geometria che sia più vicina a quella che la natura utilizza per mantenere queste spiagge in equilibrio le cosiddette pocket beach si chiamano. È un intervento soprattutto che rispetterà l'economia circolare cioè i materiali che verranno presi verranno riutilizzati per la configurazione e la ricostruzione delle opere forane secondo come appunto la buona tecnica dice che devono essere fatte. Il Comune di San Vito Lo Capo inoltre a chiesto è ottenuto dall'assessorato regionale territorio e ambiente competente per materia la delega per redigere il piano regolatore del porto. L'amministrazione comunale stanzierà nel bilancio di previsione le somme necessarie per l'incarico per la redazione del nuovo PRG portuale. A Trapani gli attraversamenti pedonali su Via Giovan Battista a Fardella continuano ad alimentare le polemiche. Ascoltiamo quelle di oggi. Appena ieri il collaudo informale dei percorsi tattili sui quali si dovranno pronunciare le associazioni di ipovedenti e non vedenti e oggi una nuova questione viene aperta dalla consigliera Anna Garuccio ancora sull'altezza degli attraversamenti che sarebbero tutti oltre i 7 cm previsti dal codice della strada. Misurazione operata dalla stessa consigliera con l'aiuto di un tecnico e della strumentazione a laser. Ci siamo accorti che i dossi sono più alti rispetto a quanto previsto dal codice della strada. Per l'esattezza proprio quello posto dinanzi alla sede dei Salesiani misura 14 cm. Quello dinanzi al negozio che si trova alla nostra... alla mia destra invece misura se non ricordo male misura 13 cm. Dunque i rilievi che io ho preso ieri sera dovessero essere esatti significa che la città di Trapani la via Fardella dal mese di ottobre quindi da ben 5 mesi non rispetta il codice della strada. Scriverò oggi stesso ovviamente lunedì ne prenderanno visione gli uffici e scriverò all'ufficio tecnico chiedendo una perizia da parte dell'ufficio tecnico e del RUP per vedere se i lavori rispettano quello che è la norma del codice della strada. Si chiama Giuseppe Rizzo ed è l'autore di un lavoro di ricerca musicale sviluppato per il teatro e per la danza un lavoro tra l'altro molto suggestivo ed originale. Domani per il cartellone degli amici della musica di Trapani Rizzo si esibirà al Museo San Rocco nel servizio che segue ci presenta lo spettacolo ascoltiamola. Solo Elettroacoustic Experience non è un semplice concerto è più un esperimento è il frutto di una ricerca condotta da tanti anni a questa parte ormai nel campo dell'interazione tra suoni reali suoni acustici e la loro rielaborazione in chiave elettronica. Provate a immaginare il suono di una chitarra il suono del bicordo questo bellissimo strumento costruito apposta per me da Lidoio Palermitano Francesco Cimino o addirittura il suono di un semplice carillon. Provate a immaginare questi suoni che piano piano espandono le proprie possibilità come quando al tramonto il vostro corpo proietta sul terreno un'ombra lunga che virtualmente tende a versione infinito. Ecco questo sono lo solito dire della mia musica io sono alla ricerca delle ombre dei suoni provate a immaginare appunto questo suono lentamente diventare altro da sé Call of Duty 全部 oltremmo scrivete un connected a jest oltremmo che continuano without stop as the what you got it too bad you now durante la mia performance che avrà luogo domenica 27 marzo presso il Museo d'Arte Contemporanea di Trapani l'Oretario San Rocco per gli amici della musica di Trapani vi aspetto per gli appuntamenti su Telesud alle 19.40 manderemo in onda il magazine con la selezione delle più importanti notizie della settimana stasera invece alle 20.30 e poi domani alle 9 e alle 15 manderemo in onda lo vedete qua dall'immagine le scinnute dei sagri gruppi dei misteri nell'ordine prima quella del ceto dei fornai poi il ceto dei calzolai e calzaturieri il ceto dei macellai e infine il ceto del popolo domani alle 21 e alle 23 invece una nuova puntata di Res Pubblica Sicilia Chiama Europa con me in studio ospiti ci saranno nella prima parte il sindaco di Marsala l'onorevole Massimo Grillo e nella seconda parte il sindaco di Castanamara del Golfo Nicola Rizzo con l'assessore al turismo Maria Tese tutte le notizie oggi come tutti gli altri giorni le potrete leggere sul nostro sito www.tresurweb.it adesso vi lascio allo sport apriamo lo sport con la notizia sull'incontro di oggi pomeriggio alle 15 fra la Handball Erice e la Palamano Mestrino gara valida per l'ottava giornata di ritorno del campionato di Serie A1 Beretta Femminile le arpie oggi scenderanno in campo con il nastro verde che è il simbolo della settimana di prevenzione oncologica alimentazione e sport invece adesso la parola alla collega per la Palacanestro Trapani che domani alle 12 affronterà Torino in trasferta ancora in apnea e in emergenza la Palacanestro Trapani domani a mezzogiorno affronterà Torino in trasferta una gara per nulla facile anche se le altre non sono stato da meno il giro della morte si concluderà con in ordine Torino domani Udine e Capodorlando la squadra piemontese allenata da Casalone nei piani alti della classifica potrà contare sul nuovo tesseramento quello del tedesco Cone Ali Begovic De Vico Landi Scott Pagani e Toscano sono gli uomini su cui Torino può contare più altri dalla panchina considerato che Zugno e Davis non saranno disponibili dal fronte Granata dovrebbe rientrare Massone ma sarà ancora assente Childs inutile girarci intorno le prossime partite sono davvero complicate occorrerà affrontarle a testa bassa cercando di ottenere il massimo possibile per il miglior piazzamento possibile per affrontare le gare della formula d'orologio tutto questo però i ragazzi di parente non potranno farlo da soli occorrerà il sostegno di tutti domani ricorre il tredicesimo anniversario della morte del giornalista scrittore storico cronista del Trapani Calcio Franco Aucci domani l'ha messa in sua memoria alle 11 presso la chiesa del Sacro Cuore di Gesù Claudia Parinello lo ha ricordato così domani 27 marzo saranno 13 anni senza Franco Aucci un uomo un giornalista un vero e proprio cultore della storia e delle tradizioni della nostra città non solo sportive lo testimoniano i suoi innumerevoli testi in cui racconta il suo particolare legame con la sua terra giornalista pubblicista dal 1968 già nel 62 seguiva il calcio giovanile per l'ora di Palermo e cominciava a collaborare con il Trapani Sera di cui salvo un periodo negli anni 70 curò la pagina sportiva fino a quando il giornale rimase in vita fu corrispondente sportivo tra gli altri di Telestar del giornale di Sicilia della Gazzetta del Sud del Corriere dello Sport e della RAI fondò con alcuni amici il primo giornale del quale sia riuscita a dotarsi una società sportiva locale Ale Granata periodico della S Trapani che diresse nei suoi due primi anni di vita stagioni 82-83 e 83-84 fino alla sera prima di morire all'improvviso il 27 marzo del 2009 Franco lavorava alle memorie di Giovanni Oddo il più grande sportivo trapanese di tutti i tempi a Franco per il suo immenso amore per i Trapani la società Granata ha intitolato la sala stampa dello stadio provinciale la sua famiglia invece organizza ogni anno un memorial in suo ricordo dal titolo facciamolo conoscere ai giovani si tratta di un premio letterario a cui ogni anno partecipano diversi istituti scolastici del territorio il cui fine è quello di dare visibilità e contribuire alla conoscenza e divulgazione delle sue opere valorizzando nella realtà umana storica e sociale evento fermo però dal 2020 a causa della pandemia ma che la famiglia si augura di riprendere presto per coltivare la memoria di Franco e di ciò che ci ha lasciato chi ha voglia di conoscere meglio Franco Auci può visitare il sito a lui dedicato francoauci.it in cui sarà possibile scoprire chi era e che cosa ci ha lasciato oppure seguire la pagina Facebook nata in sua memoria intanto domani mattina alle 11 Franco sarà ricordato durante la Santa Messa nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù tra i personaggi della Settimana Santa trapanese noi conosciamo abbiamo parlato con i consoli abbiamo parlato con i fiorai abbiamo parlato con le bande musicali questi sono i protagonisti ma ci sono anche dei personaggi che sono dei devoti i quali fanno dei gesti che potrebbero essere semplici o inutili invece sono dei gesti particolari e vi assicuro anche ricchi di emozioni e di tanta fede ad esempio siamo oggi con i nostri due fratelli Strazzera siamo con Mimmo Strazzera e Luca Strazzera che praticamente loro pochi minuti prima delle ore 14 del Venedì Santo fanno un gesto particolare all'interno della chiesa magari lo vediamo chi è all'interno non chi è all'esterno però vediamo questi due ragni diciamo in questo modo che si arrampicano in quel portone e aprono il portone perché poi puntualmente alle 14 viene spalancato è un momento bellissimo dove l'emozione è indescrivibile perché avere l'onore di salire questo portone fare questa arrampicata come noi l'abbiamo sempre definita per sganciare i ferri del portone è un momento importante è un momento rituale perché tutto ha un senso perché il momento in cui noi saliamo i ferri vengono battuti l'uno sull'altro tre volte e questo è un segnale sia per le persone interne che stanno aspettando questo momento ma anche per chi è all'esterno che riesce a percepire che questo è il momento dove sta per iniziare la processione c'è un altro rito che si fa all'inizio della processione dei misteri qualche volta si fa fuori esternamente ma altre volte si fa all'interno e anche questo è un rito molto molto particolare ricco di veramente emozione e di commozione la sciaccolata nacque in forma di rispetto e ricordo di una persona diciamo fra le più importanti nel contesto dei personaggi dietro le quinte della processione dei misteri non all'esterno che ci ha lasciato e nacque così come un momento per voler ricordare questa persona dove nel contempo in effetti ci rendemmo conto che si andava a ricordare tutte quelle persone con cui si condividono momenti indimenticabili anche se per una volta l'anno che creano dei legami indissolubili che poi purtroppo ci lasciano e quindi rimangono nel ricordo considera che la sciaccola che io suono al momento dell'apertura della processione è la sciaccola appartenente a questa persona che noi abbiamo ricordato la prima volta le vostre emozioni da persone amanti e devoti della processione dei misteri della settimana santa le emozioni sono tante di aneddoti ce ne sono tanti sicuramente a noi piace ricordare una persona nella figura di Peppe Accardo che da tanti anni è stato sempre con noi nel comitato organizzativo e che purtroppo quest'anno non c'è più perché ci ha lasciati e quindi sicuramente il ricordo va proprio a questa persona in cui abbiamo fatto assieme tante tante processioni è un po' difficile perché di aneddoti in io ho iniziato la prima processione da partecipante a 12 anni e poi da 16 anni milito diciamo nell'organizzazione interna del dietro le quinte oggi ho 58 anni qualche processione è passata per cui di aneddoti così come di persone che sono scomparse come Giuseppe che ci ha lasciato e ce ne sono tanti emozioni possono essere quella degli occhi di Giuseppe che ci guarda dalla fessura che poi la fessura porta lettere del portone della chiesa e che è l'unico momento di posto di comunicazione fra l'interno e l'esterno durante l'inizio della processione e quello sguardo sicuramente rimane impresso nella mia mente sicuramente in quella di mio fratello in maniera indelebile emozioni sono quelle di portare allo standard ed essere solo con te stesso davanti a questa moltitudine di persone ultimamente negli ultimi 30 anni anche con le telecamere che ti fa emozionare in maniera sicuramente diversa da quando lo facevamo quando avevamo 15 anni 16 anni 17 anni in quella processione era solo fine agli spettatori che avevi davanti adesso ti rivolgi a una platea sicuramente diversa grazie a tutti grazie a tutti